Nicola Brusco presenta la nuova serie thriller che oscurrerà Breaking Bad Romualda porta i bimbi a scuola pronto pronto ha la febbre è normale in questo periodo eh già è uno dei sintomi del virus ma devo fare il tampone eh va bene vengo a prenderlo pochi giorni dopo sì pronto come ha il moccio al naso eh ma tutti i bambini ce l'hanno ah già è uno dei sintomi del virus un altro tampone va bene vengo a prenderlo pochi giorni dopo sì pronto come l'è sembrato di sentirlo stardutire e lo credo bene lasciate le finestre aperte e ci sono 15 gradi sotto zero sì va bene vengo a prenderlo pochi giorni dopo pronto io sono stufa di fare tamponi sì saranno anche rapidi ma la prima prenotazione libera è fra 20 giorni ce li porti tu stavolta a fare il tampone pochi giorni dopo pronto cos'ha oggi ha sputato i pomodori lo so gli fanno schifo ah le anomalie del gusto sono uno dei sintomi del virus va bene vengo a prenderlo pochi giorni dopo oggi non mi hanno chiamata forse questo dramma è arrivato finalmente a una conclusione speriamo dai stanno per uscire vado a prenderli ma cosa sono tutte queste macchie un attimo che controllo poteva almeno avvisarmi telefonarmi questi non sono sintomi del virus mamma mi hanno accoltellato la scapola non sembra una ferita mortale ma è assurdo e sa com'è sono ragazzini signora e poi non è tra i sintomi del virus ma qui stanno impazzendo tutti ecco quello può essere tra gli effetti del virus se ti è piaciuto questo filmato iscriviti al nostro canale con il bottone in alto a sinistra evviva grazie a tutti 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 grazie a tutti